buonasera a tutti e benvenuti siamo a fa la cosa giusta fiera nazionale del consumo critico e degli stili di vita sostenibili edizione speciale 2020 interamente online interamente concentrata sul programma culturale che da sempre è uno dei cuori pulsanti di questo appuntamento io sono antonella carnicelli della redazione libri di terre di mezzo editore terre di mezzo è la realtà che ha ideato e da 17 anni organizza questo appuntamento e sono felicissima stasera di essere qui con un nostro autore alessandro bonaccorsi ciao alessandro ciao buonasera ciao benvenuto grazie alessandro è visual designer facilitatore grafico e formatore ma questa sera è qui soprattutto in veste di autore di ideatore scusate ideatore della via del disegno brutto e con alessandro abbiamo pubblicato due libri uno è appunto una sorta di introduzione al suo metodo la via del disegno brutto poi vi spiegherà lui che cos'è lo farà benissimo quindi non mi dilungo troppo in definizioni e poi un secondo titolo che è un'applicazione del suo metodo in un contesto nel contesto nel quale ci immagine meno ci immagineremo disegnanti ed è appunto l'oggetto di questo webinar e del secondo libro che abbiamo fatto con alessandro che si intitola lavorare meglio disegnando male e prima di lasciare la parola ad alessandro vi ricordo che c'è la possibilità di fare domande utilizzando la funzione dnr oppure qna per chi ha zoom in inglese e niente lascio la parola ad alessandro e buon webinar a tutti grazie mille antonella grazie a tutti vedo che stanno continuando ad entrare quindi entrate pure sì allora inizio subito a raccontare un pochino cosa è il mio perché sono qua insomma cos'è questo disegno brutto di cui qualcuno parla e lo faccio dicendo che il che probabilmente le persone tra l'altro che ci che adesso sono che da ascoltare non so se loro disegnano però ecco c'è questa cosa per cui la maggior parte delle persone non disegnano ora in realtà forse da una parte anche giusto così io non so esattamente come sia perché non disegniamo tutti però c'è da dire che se tutti disegnassimo almeno un pochino potremmo fare molte più cose e soprattutto il disegno sarebbe uno strumento utilissimo perché ci ci fa ragionare in modo diverso anche dire ragionare in realtà qualche modo è sbagliato perché non è un ragionamento non il disegno non non sfrutta diciamo la parte razionale del nostro cervello ma ne usa un'altra ed è uno strumento interessante perché sembra fatto apposta per per stimolare e per visualizzare l'immaginazione quindi tutto tutta quella parte di mente che tutti abbiamo e che continuamente crea immagini il disegno sono uno strumento utilissimo da questo punto di vista e come sperimentato con il mio progetto disegno brutto è utilissimo per per dei motivi diciamo di ricerca interiore di esplorazione ostinata nel cercare non dico un senso però nel voler esplorare insomma quindi andare a vedere le cose da un altro punto di vista e si è la mia idea era di riuscire a a portare in giro un disegno che si staccasse da ogni discorso sull'artisticità sul talento e in qualche modo anche sull'uso professionale per quanto io usi il disegno in modo professionale quindi insomma in vari modi uso il disegno proprio come come strumento di lavoro però volevo uscire da tutte queste cose per farlo o l'obiettivo era di riuscire a creare una sorta di filosofia non so di percorso filosofico basato sul disegno e quindi un percorso che ci facesse andare a fondo più in alto di lato e vedere le cose in modo diverso e per quello ho fatto creato appunto il libro di cui Antonella parlava che era la vede il disegno brutto a cui poi è seguito quest'anno lavorare meglio disegnando male che anche ve lo faccio rivedere cosalmente ce l'ho là ce l'ho qua e di parleremo quest'oggi e ne parleremo tra l'altro in un periodo storico molto strano perché ormai quasi un anno molti di noi stanno sperimentando questa cosa dello smart working che tra l'altro molti analisti molti ricercatori sulle risorse umane tutto stanno dicendo occhio che sia smart working e non sia home working quindi non sia semplicemente lavorare a casa ma che sia veramente intelligente che sia veramente agile o ben strutturato per quello che succede che semplicemente uno si ritira a casa mi sono chiesto se il disegno poteva in qualche modo essere utile ovviamente la risposta mi è venuta subito e verrà sì poteva essere utile allo smart worker quindi al lavoratore solitario per lo più tra l'altro che lavora a casa per quanto poi si possono ricreare nuove socialità e nuovi metri di lavoro ad esempio nei co working o in altre situazioni e è la cosa che mi che mi ha fatto ragionare proprio che ho detto perché il disegno può essere utile la prima cosa è che quando si fa smart working smart working siamo da soli nel senso che magari siamo iperconnessi si fanno tantissime call si fanno quasi solo call riunioni però siamo soli nel senso che il posto dove lavoriamo che sia la scrivania al tavolo di cucina è un posto protetto per chi non ce lo vede per nessuno cioè non abbiamo più i colleghi che ci guardano ora io sono del dell'idea che portano avanti adesso insomma gli ultimi anni ci sono varie persone che portano avanti questa idea che la maggior parte degli esseri umani sia comunque introvertita cioè che almeno alla nascita sarebbe in qualche modo introversa poi dipende alcuni sono introversi solo diciamo nello star da soli altri sono introversi sociali insomma possono essere timidi semplicemente introverzi però insomma che ci sono tante tante persone che hanno bisogno dei loro tempi che hanno bisogno di avere dei momenti in cui star da soli a pensare che non amano troppo il rumore poi da bambini ci dobbiamo adattare perché la società insomma ci impone un po modello molto estroverso no e il disegno l'introversione per natura molto di più se volete anche della scrittura perché però è proprio un atto molto intimo perché viene molto giudicato per cui se tu se tu lo fai vedere poi o se malauguratamente te lo vedono se lo vedono gli altri insomma sicuramente diranno qualcosa e la scrittura impone una lettura per cui dovrebbero vederlo leggerlo e quindi ci sono dei passaggi invece il disegno con il disegno ti sgamano subito se stai disegnando e quindi il io non so è tutto l'anno che vedo questo questo periodo di smart working come una sorta di rivincita degli introversi no per cui tutti quelli che potevano urlare in riunione quelli che si pavoneggiavano adesso hanno perso tutto questo potere che avevano e quindi i lenti l'introversi secondo me stanno trovando nuovi spazi e il disegno può aiutare in questa situazione perché perché ti fa ti fa fare intanto quindi è un'azione che facciamo e ci fa togliere le cose dallo schermo cioè dallo schermo le togliamo le mettiamo su un foglio e quindi ci possiamo anche prendere dei momenti per per ragionare per per buttare giù idee il tempo ad esempio che passiamo in call spesso sono video call insomma è un tempo che rischiamo di perdere e c'è una parte di noi che se vi abituate e c'è di farla di far vagare la nostra mente in pensieri che ne sono montanari o penso di pensare a chissà che vacanze cosa cercare di usare una parte della nostra mente che è quella che ci fa distrarre poi dopo un po' usarla invece che ne so per prendere appunti o anche solo per disegnare senza il controllo del della nostra mente che sta ascoltando insomma e sono tutte cose interessanti perché ci rendono più utile anche anche il tempo nell'incontro di quest'oggi voglio appunto parlarvi bene di questo libro e per farlo voglio voglio al di là di introdurvi insomma per chi non lo conoscesse il corso di disegno brutto anche fare darvi un attimo ai motivi per cui disegnare non solo è bello divertente è creativo se sta parola odiosa insomma ma ma ci sono proprio dei motivi per cui l'essere umano disegna e non è solo il pollice opponibile perché provate a chiedere un elefante di impugnare una penna e l'elefante probabilmente non ce la fa ora scelto l'elefante che con la proposta e magari ci frega però chiesela nippopotamo nippopotamo non ce la fa quindi già il disegno per l'ippopotamo è una cosa faticosa perché dovrebbe muovere il suo zampone e cercare di fare delle tracce non che non lo faccia ora in particolare l'ipopotamo no ma gli elefanti alcuni elefanti con le zampe tracciano dei segni intenzionali sul sul terreno quindi c'è un in qualche modo un lasciare traccia che è interessante anche per alcuni animali considerate che la maggior parte del tempo noi disegniamo italiani poi con le mani nell'aria disegniamo nella mente c'era einstein che era un grande sostenitore del pensiero immaginativo cioè della creazione attraverso il pensiero e lo faceva tutto dentro la sua scatola cranica nel senso che scriveva al massimo non disegnava però creava dei modelli mentali dei modelli mentali anche su cose assurde infatti ci sono delle diciamo anche degli studiosi anarchici anarchici del pensiero filosofico scientifico che dicono insomma che lo scienziato ricercatore è vicino qualche modo alla pazzia cioè un pensiero totalmente libero e immagina cose immagina possibili cose che tutto il resto del mondo dice ma sei folle ma cosa vuoi la relatività le onde gravitazionali cosa ma se cosa dici ed è la storia un po di molti scienziati o pensatori che fanno delle scoperte incredibili e per farle insomma per immaginarle usano la mente e alcuni per farlo poi trasferiscono questo questa capacità diciamo questa visione su su foglio su carta allora condivido adesso la mia presentazione allora il disegno brutto come vi dicevo è un corso è un progetto nato per riportare le persone a disegnare proprio nato così da da un pensiero abbastanza semplice stupido nel senso è ma tra i miei amici tra i miei parenti ma chi è che disegna quasi nessuno e allora mi sembrava una cosa brutta proprio per dire mi sembrava una cosa non giusta ingiusta insomma che le persone non disegnassero al di là che si recupera uno spazio come dicono alcuni scrittori uno spazio un tempo bambino quindi con cui tu torni bambino e vado all'altro insomma recuperi proprio delle abilità delle attività che stiamo perdendo perché scriviamo sulla tastiera guidiamo le macchine usiamo il volante tutto ma non disegniamo per farlo ovviamente ho dovuto creare un una sorta di sistema che che funzionasse e questo sembra sembra che funzioni insomma i feedback sono sono buoni per cui molte persone effettivamente riprendono a disegnare comunque ritrovano nuovi spazi tra l'altro nuovi spazi per errare cioè per per commettere errori e che è importantissimo perché una società che ci chiede di essere sempre performanti ci chiede il profitto nei miei corsi dico qui non c'è profitto c'è solo processo processo inteso come procedere processo a giudizio e una società che ci chiede di essere sempre più performanti appunto fiqui efficienti beh riuscire a trovare degli spazi e dei tempi in cui essere assolutamente insensati fare qualcosa un'attività inutile infantile fare degli scarabocchi che sono considerati come quasi il grado zero del disegno della scrittura ma quindi una cosa che sanno far tutti e anzi abbastanza negativa beh secondo me è un è un'attività proprio che ci rimette in qualche modo in connessione con un'altra parte di noi e con un con un modo diverso di pensare per cui ho creato questo questo corso ne ho fatti 120 fino ad oggi ne ho fatti in tre anni e qualche mezzo ho visto 1800 persone e qui ho portato qualche foto giusto per far vedere che è vero e alcuni sono fatti anche in azienda questo ad esempio anche se non sembra da quello che stanno facendo le persone siamo in un'agenzia di comunicazione che aveva invitato tra l'altro molti molte persone che lavorano in grandi aziende per cui quando disegnano tutti sembrano nessuno sembra più un manager è sicuro che qui ci sono sembrano tutti dei ragazzini degli studenti dei pessimi studenti ma sono qualche scarabocchia no che qualcuno appunto riusciva a scarabocchiare anche altrimenti lo scarabocchio piaceva un sacco se l'era tatuato ed è tutto un giocare tra l'altro come vedete è molto un giocare molto comunitario cioè che le persone vedono cosa gli altri disegnano questo è importante perché purtroppo online in questa sensazione non si riesce a ricreare perché uno dei dei modi per far tornare le persone a disegnare è togliere il giudizio e per togliere il giudizio c'è bisogno di metterli tutti insieme guardarsi intorno e dire vabbè sì io non sarò non sarò matisse ma vedo che anche il mio vicino insomma non è picasso ecco quindi ma il comune mezzo gaudio in genere poi vedendo cosa fanno gli altri uno si sblocca e non solo arricchisce la sua esperienza perché inizia a vedere cosa fanno sono poi degli esercizi in cui si mostrano agli altri si ragiona su quello che si disegna ed è molto arricchente perché si vede quante soluzioni ogni persona trova uno stesso problema che è l'esercizio quella è una cosa secondo me impagabile lo è proprio anche dal punto di vista del divertimento per queste sono anche cose che si riescono a fare giusto adesso c'è un po di malinconia perché cose che si fanno in presenza adesso non si riescono più più a fare però nei corsi online questi sono come vi dicevo sono sono i tre libri che c'è anche il libro in inglese che sono usciti e che ritrovate tutte le migliori librerie per questo bene c'è un inserzione come vedete c'è tutto un gioco di colori e dovremo la nostra idea con l'editore di coprire tutto lo spettro dei colori per il cobaleno con il disegno brutto allora voglio voglio farvi adesso una una veloce diciamo carrellata sul perché disegniamo e su quello che disegno per l'essere umano la prendo molto larga è però sarò sarò veloce modo da parlare del libro e lasciare spazio anche a domande risposte perché sicuramente saranno molte curiosità da soddisfare quello che si dice sia il primo disegno della storia dell'umanità in realtà questo è un incisione ma come vedete che sopra è rappresentato un'altra roccia disegnata siamo dicono nel 85 mila avanti cristo quindi siamo quasi 80 mila anni fa siamo in una grotta del sudafrica e questi sono i segni riportati incisi in una roccia e disegnati su un'altra sono chiaramente intenzionali secondo gli studiosi non sono fatti da agenti atmosferici e tutto e nessuno sta ovviamente perché che abbiano fatti se non che li ha voluti fare perché è sicuro che incidere una roccia provateci non è così facile così veloce quindi non è che lo fai per caso se lo fai deve avere dei buoni motivi maggior parte di chi dei pochi che studiano i segni dei tempi andati delle epoche primitive pensano che il segno nasca come necessità di contare o di lasciar traccia inteso come identificare qualcosa cioè di dire questo è mio questo è un segno di appartenenza sono questo della nostra tribù questo l'ho trovato qua come un segno di riconoscimento e quindi c'è già una voglia di comunicare in un caso il calcolare invece è un modo per tenere a mente quindi i due usi del disegno possono rimasti quelli cioè comunicare qualcosa e tenere a mente cioè migliorare la memorizzazione si fa un salto prima di arrivare alle varie grotte che magari molti di voi conoscono tipo la scoscia v e altamira insomma le grotte quelle meravigliose tra l'altro un pochino più recenti ce ne sono di di fantastiche interessantissime anche in italia questo è è un po un una nuova scoperta nel senso che sono due o tre anni che sono stati retrodatati questi disegni trovati nella grotta della pasiega che era in spagna ed erano insieme a tanti altri disegni variettali però poi un nuovo studio insomma ha identificato alcuni dei disegni che erano questa grotta in particolare questi e qualcun altro come disegni fatti 60 mila 65 mila anni fa e il problema tra virgolette che quella zona lì in quel tempo sembra che ci fossero solo i neandertal quindi ha creato diciamo un piccolo enigma un piccolo rompic capo anche dal punto di vista del di quello che si pensa sui neandertal che vengono rivalutati sempre di più l'unico aspetto fisico che ancora insomma sempre degli shrek più o meno però si inizia a pensare che fossero intelligenti sapessero fare un sacco di cose considerate che fino a prima di questa scoperta molti paleontologi dicevano che i neandertal hanno al massimo in grado come attività artistica di mettere in pila delle rocce il fatto che disegnassero addirittura disegnassero degli esseri antropomorfi come quello centrale che io faccio disegnare spesso alle persone anche ai bambini perché ridisegnarlo è incredibile perché ti cioè tu disegni qualcosa che ha disegnato un uomo salto di neandertal 65 mila anni fa e come a lui anche a noi questo disegno ci dice qualcosa nel senso che ci ci diverte ci fa veramente buffo veramente interessante intrigante questo disegno considerate che questo è la riproduzione insomma fatta dalle archeologi quindi è tracciato sul sulla roccia è un pochino meno netto ma vi assicuro che ho visto nelle foto è effetto è quello si passa poi abbastanza in un modo strano perché non c'è una progressione questo è un altro delle delle chiavi che mi piace far far vedere con i miei corsi cioè che non c'è una progressione continua del disegno è tutto alti bassi alti basso in tutte le cose il nostro cervello è così da 300 mila anni per cui inutile starci a chiedere perché cosa facevamo se l'uomo di 300 mila anni fa era meno intelligente di quello di adesso ma guardiamoci in giro mi sembra che ci siano tutte queste persone intelligenti e parte noi che siamo qui in questo questo webinar in realtà è fatto così cioè tu ti chiedi perché 30 mila anni fa arrivano degli artisti incredibili alla pazia scusate altamira o chauvet questo sono sbagli di chauvet e poi ti ritrovi degli incisioni parietali che ne sono anche santi in valcamoni che in italia che le più antiche risalgono 8 mila l'ottomila anticristo quindi 10 mila anni fa e la fattura di quelle per quanto siano intriganti misteriose assolutamente affascinanti però confrontata ai leoni di chauvet dici ma quindi non sappiamo più disegnare tutto il successo che sono abilità che magari alcuni gruppi avevano oppure si sviluppano si perdono le archeologi dicono che in tre generazioni si perde una tecnica cioè io posso fare i cappelletti se tutte le nonne della romagna qua finiscono a smettere fra i cappelletti la figlia di mia nipote scusate la mia nipote non le saprebbe più fare perché si perdono proprio delle tecniche anche semplici nel giro di tre generazioni e mi sembra ci vogliano un centinaio di anni mi ricordo ci sono dei calcoli abbastanza precisi per perdere una cultura completamente per cui ci sono anche culture magari volute o complesse che spariscono in un attimo e cento anni sono pochissimi sono delle lingue che sono scomparse insomma quindi anche delle abilità delle delle motivazioni per fare certo tipo di disegni probabilmente si è anche perso all'interno di questo tutti questi e qui si inizia a entrare nel vivo anche di lavorare meglio disegnando male insomma l'essere umana sempre fatto un sacco di segnini segnetti strani e questa è una raccolta di alcuni di quelli che sono stati campionati in uno studio di qualche anno insomma da una ricercatrice canadese sono interessanti c'è anche l'hashtag sono segni che sono andati avanti in tutto il mondo quindi ripetuti anche diffusi in tutto il mondo per diecimila anni almeno e da lì poi salta abbastanza veloce si va verso le prime grandi civiltà e quindi si fa tutto questo passaggio che nei libri di storia chiamata rivoluzione neolitica e quindi iniziano anche a fiorire dei motivi ornamentali decorativi che si ripetono l'uso del disegno che è arrivato a noi è un disegno inciso oppure un disegno appunto fatto su ceramica o su terracotte ovviamente tutti i disegni quelli volatili diciamo fatti sulla sabbia sulle foglie sono persi e sicuramente ci saranno stati perché prima di fare un lavoro del genere sicuramente l'artista che o l'artigiano che ha fatto questi disegni sicuramente si è allenato e poi si arriva alle incisioni insomma disegni paritali questi sono siamo nel periodo in alcuni casi siamo anche nello stesso periodo dello sviluppo delle prime civiltà quindi non sono così antichi infatti è come vi dicevo abbastanza incredibile cioè tu guardi i disegni di Chauvet poi guardi questi e pensi che questi siano più antichi di Chauvet no invece Chauvet è arrivato ventimila trentamila anni prima le volte quindi si arriva alla scrittura e si passa attraverso questi questi sono dei specie di cocci di terracotta che vengono chiamati gettoni ed erano usati come scambio come conteggio dai sumeri insomma dalle prime primi popoli che iniziano a svilupparsi nel medio oriente sono considerati proprio gli antenati della scrittura il conteggio l'antenato della scrittura e adesso senza entrare nel scorso della scrittura di tutta la nascita della scrittura che è complesso e potrebbe via troppo tempo però ecco vi faccio vedere quelle che sono considerate le due scritture più antiche che sono geroglifiche con i formi e come vedete è un linguaggio visivo quindi fatto di segni complesso per quanto la scrittura alfabetica sia altrettanto complessa per altri motivi insomma e come vedete sono segni 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 e quindi qui il disegno sicuramente iniziava intervenire per gli egizi era proprio un fatto perché scrivevano su dei papiri quindi erano costretti ad usare degli strumenti di disegno quindi il disegno come lo conosciamo noi il linguaggio visivo è lo potete considerare nascere con gli egizi perché scrivono proprio su quella che si può chiamare carta questi invece sono fatti su delle tavolette di argilla e si arriva questa è una quella che ho usato per il libro le vede il disegno brutto in cui ho messo insieme un po di lettere di tutti mescolando alfabeti antichi proto alfabeti e se li vedete tutti insieme sono dei segni anche abbastanza enigmatici complessi perché insomma capite che gli alfabeti sono delle cose complicate e però assolutamente affascinanti interessanti e quindi anche solo riuscire ad accedere a questo mondo di segni simboli che è nostro perché alcuni ci parlano proprio perché sembriamo conoscerli non si sembrano dei segni che conosciamo bene e anche accederci ci darebbe la possibilità di arricchire ad esempio la nostra comunicazione lo sviluppo delle idee e questa è una cosa che sapevano ad esempio i greci cioè sono andato nelle mie ricerche così dico sto cioè per portare il disegno in azienda ho fatto un libro però in questo libro ci devono essere comunque intorno a questo libro ci devono essere delle motivazioni perché non posso andare da un manager pur essendo il mio sogno è vedere due manager che si stringono la mano di questi abbia le dita sporche di pennarello li devo convincere che il disegno è una cosa cosa buona quindi devo fare per tipo spirale e prenderli alla larga iniziare a tirarle dentro anche nomi ed esperienze molto particolari questo è i filosofi greci sicuramente disegnavano perché parlano molto di visualizzazioni solo che non ci sono tracce perché magari li facciano su delle tavolette allora ho cercato ricercato delle testimonianze che in genere sono degli storici successivi questo è una testimonianza di un geografo del 200 dopo cristo su Anassimandro che Anassimandro tra l'altro uno dei primi ad aver creato un modello astronomico interessante insomma è anche uno dei prima di aver capito che la luna era solida insomma e dice che Anassimandro di Mileto l'allievo di Taleta ebbe per primo l'audacia di disegnare l'ecumene che è la rappresentazione delle terre emerse su una tavoletta e detto sicuramente il termine greco perché poi l'ho ritrovato in latino quindi non so il testo greco non l'ho trovato però sicuramente veniva usato grafeina insomma del verbo greco per che è quello che poi dato vita grafica grafologia che è quello della scrittura ma era una scrittura vasta perché addirittura poteva includere anche la poesia nel senso era proprio una sorta di traduzione di pensieri cose in un'azione umana in particolare insomma poi diventa l'azione dello scrivere del disegnare però è interessante come la maggior parte delle delle popolazioni antiche non abbiano un termine diverso per scrivere disegnare sono i romani poi che fanno questo questa separazione e poi trovata anche una cosa su Archimede che è un altro personaggio singolare insomma importante che si dice che Plutarco racconta che si scordava persino di mangiare di curare il proprio corpo c'è quest'aneddoto abbastanza truce ma è interessante spesso quando i servitori lo trascinavano aveva forza nel bagno per lavarlo ed ungerlo e li disegnava sulla cendere della stufa alcune figure geometriche e appena lo avevano spalmato di olio tracciava sulle proprie membra delle linee col dito quindi era sempre lì che pensava e questo pensare però era continuamente fatto attraverso il disegno quindi tracciava le linee ovviamente Archimede lavorava tantissimo sulla geometria poi i greci erano proprio dentro la geometria però la geometria ha bisogno di essere visualizzata e quindi lo faceva sulla cenere sul dito e tutte queste sono tracce interessanti perché fanno capire che il disegno c'è sempre stato fa un salto di secoli giusto così per andare proprio più spediti e quando è che poi si ricomincia a disegnare tanto proprio inteso come disegno che il disegno è più simile a quello che poi facciamo noi sulle nostre scrivanie con le miniature quindi nei conventi perché ci sono proprio delle persone che sta lì tutto il giorno solo a scrivere e disegnare tra l'altro trovate ormai ci sono questi cataloghi di disegnini che si facevano per divertirsi o per mettere dei per fare dei rispetti quindi dai conini assassini a delle cose sono sono buffissime perché si vede anche quanto fosse alienante e stai disegnando piccoli piccoli piccolissimi facendo questi disegni ho preso questo in particolare perché sono disegni che commissionava diciamo fra virgolette il de garda von bingen che conosciuta soltanto il de garda lei aveva aveva un sacco di visione alla mistica interessantissima perché poi anche proprio quel modello femminile e aveva uno staff un'equipe di monache che disegnavano erano dedicate al disegno delle sue visioni quindi le aveva queste visioni e poi le dettava queste monache che facevano ed è interessante perché una quasi sfiorata l'astratismo insomma va dal 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 simbolismo class tipico di questi disegni amanoensi fino al commetto delle me anche che vanno quasi verso l'astratto perché deve rappresentare proprio delle visioni che vanno parecchi particolari e erano degli esempi più interessanti insomma che io avevo questo è leonardo che è il primo che ci dà l'idea di cosa significa disegnando lui ha questi taccuini cioè i codici leonardeschi non sono altro che dei grandi taccuini su cui l'idea scriveva disegnava faccia le prove riprove e considerate che anche quando leonardo segna dal vero così a parte quando disegna dal vero veramente perché magari sport e cadere in casa queste cose per quando fa le facce ritratti ma probabilmente erano tutte facce che lui vedeva e che poi le faceva a memoria no quindi aveva un discorso proprio facciamo ragionamento sul disegno anche molto molto intimo era sempre lì che ragionava tra l'altro se avesse avuto il telefono l'avrebbe probabilmente sperato perché tutti le avrebbero telefonato per dire leonardo ma quando è che mi finisce quando è che mi finisce quel dipinto si aspetti che insomma era un po così leonardo sperdeva molte divagazioni disegnate questi sono studi sull'ottica questi sul sulla meccanica dei fluidi e si capisce proprio come usa il disegno in modo non realistico anche se vederlo così è molto bello molto altronde era uno molto abile fa con con la mano e non hanno scondisi e felice però cerca di riprodurre tutte le spirali cerchi di produrre volumi l'acqua e quella la cosa interessante quindi ragiona in cerca di usare il disegno come rappresentazione della realtà ma per capirla non per rappresentarle basta e l'altro che usa il disegno in modo strano anche se poi non disegna lui si fa fare le cose da dei tipografi tutti giordano e questo ve lo faccio vedere perché giordano bruno il suo obiettivo è migliorare la potenza della mente anche dal punto di vista mnemonico cioè uno dei suoi obiettivi è un mistico assolutamente perché ha delle visioni anche lui abbastanza incredibile da quando era bambino e a tutte queste tavole che ovviamente gli studiosi hanno ignorato pertanto solo ultimamente sono state un pochino riprese e reinserite nel discorso filosofico di giordano bruno perché sembrano staccate le sue discorse poi i suoi discorsi già non sono molto comprensibili spesso questa in realtà sembrano proprio delle tavole fatte apposta perché tu non le guardi e entri dentro in modo il già con l'occhio inizia a navigare che quindi abbiano un'azione visiva che ti permetta poi secondo lui accedevi o degli stati di coscienza superiore con una sorta di attivatore per la meditazione per la trascendenza per le visioni oppure addirittura per memorizzare che poi ha creato tutti dei sistemi di memorizzazione visiva che però probabilmente qualcuno ci ha provato a rifarli sono al limite del delirio quindi ha pensato che lui avesse una mente fatta in un modo particolare che però è molto basata su accostamenti visivi tra l'altro poi si è scoperto che lo dice in alcune cose che associava spesso a belle donne cioè quando si doveva ricordare una cosa associava una bella donna state cronfrate è un dominicano ok si va si va avanti e poi arriviamo al libro si e vi faccio vedere insomma altri esempi se ha l'inneo gheet darwin quindi tutti esempi di di cerca scientifica naturalistica e diciamo dal punto di vista artistico quello che per tutti è più accessibile vista che in qualche modo è esplorato più il disegno come ragionamento e che può essere più interessante sicuramente clè che se ve lo cercate i disegni di clè sono una sperimentazione al disegno sul ragionamento sul sulla ricerca interiore sul clè appassionato era in qualche modo era molto spirituale ad all'altro era anche appassionatissimo per sé che c'erano in quel periodo la fisica c'era insomma tutta una rivoluzione scientifica nei primi anni del novecento per cui lui era però un musicista quindi vedeva le cose da vari vista e le infila sempre nel disegno quindi dalla ricerca dell'assoluto al alle tesi di fisica le prime tesi di fisica quantistica o le recuperazioni di planck insomma quindi è veramente interessante andare a vedere clè i disegni non i dipinti disegni di clè proprio sotto questo punto di vista al giorno d'oggi alla fine disegnare è o questo scusate gli scarabocchi dei bambini oppure chi disegna per lavoro e c'è una parte diciamo più semplice che quella che poi si fa spesso con i post it che di scrivere e disegnare le varie facilitazioni e poi sono le facilitazioni più complesse in cui c'è qualcuno disegna per noi prende appunti che quello che poi faccio anch'io in alcuni casi però poi non disegniamo non disegniamo cosa succede che con questo libro voglio provare ho voluto provare a far sì che tornasse in azienda mi sono io sono partito pensando a un a un'idea di ufficio è stato il primo titolo era disegnare un ufficio quindi ho pensato a un a un'idea di ufficio proprio quell'anni 70 di fracchia fantozzi tra l'altro sempre nelle mie ricerche ostinate ho trovato che nella nei titoli di apertura di fracchia che era una specie di striscia sembra domenile credenza qualche contenitore della domenica e c'era questa specie di telefilm non so come chiamarlo di sitcom c'erano tutti i balletti con tutte le impiegate sui tacchi che ballano tutto e poi a un certo punto la telecamera si arriva su un villaggio che è piegato sulla sua scrivania in mezzo a tutti gli altri che di nascosto sta andando però c'è quell'idea del disegno come cosa diciamo stupida che è lì che fracchia che disegna una casetta con l'arcobaleno e tutto non proprio il non si disegna al lavoro disegnare perdere tempo questa idea del se disegni non controlli e quando lavoravo in azienda quando mi mettevo pur facendo grafica comunque già però era un'azienda diciamo una sorta di fabbrica in cui c'era tutto si curava tutto la cosa editoriale tipografica e se io staccavo gli occhi del computer e mi mettevo a disegnare sulla scrivania e tra l'altro disegnavo magari meno boh dei libri che stavo impaginando stavo facendo dei ragionamenti sulle copertine il caporeparto si alzava e veniva a vedere questo tempo stai facendo sto guardando un po le copertine mi raccomando ed è così il disegno proprio fa dice cosa sta facendo quello si sta divertendo perché è una sorta di distrazione ma è fino a che il mondo del lavoro considera disegno in questo modo è un problema io sento più parlare di uomo al centro diciamo il dipendente non più come una risorsa quindi superare il concetto di risorse umane il disegno secondo me va verso il cambiamento del mondo del lavoro e tra l'altro riporta un po di anarchia e di di pensiero libero individuale in un mondo che è molto digitale che è molto tra l'altro regulato programmato ma quindi li rompi un pochino tutte queste questi rituali questa specie di scansione continua del tempo perché il disegno quello che fa è siccome tu sei uno spazio tuo stai disegnando il tempo si allarga si espande e quindi ti crei delle bolle delle bolle di tempo in cui sei solo tu ragioni e secondo me è uno spazio fantastico allora vedo tanto che ci sono già delle domande le domande sì io vado a dritto a raccogliermi ok allora vi voglio fare dunque in questi ancora se dieci minuti vi faccio il parlo del libro i motivi per cui siamo qua e questo è l'indice potevo fare un indice normale lì che dovevo rompere l'indice e quindi una sorta di mappa e come vedete ci sono quattro zone diciamo in realtà sono cinque però quattro zone principali una è disegno brutto quindi disegnare senza giudizio quindi rimettiti a disegnare e le altre invece le proprio più specifiche di questo libro sono la costruzione di linguaggio visivo disegnare l'ufficio disegnare colleghi quindi disegnare da soli oppure disegnare con gli altri e adesso vado dentro ad un'una di queste di queste parti per per farvele vedere il libro è costruito in modo come potuti libri che che sto facendo insomma sul disegno brutto c'è c'è esercizi da fare sono delle parti teoriche che le chiamo ispiranti diciamo in cui cerco di ispirare le persone e poi sempre per questa cosa ispirante ci sono citazioni e ieri di grandi pensatori la cosa che mi interessa di più di far vedere una sorta di chismo quindi cose che arrivano da da vari mondi nelle vere il disegno brutto sicuramente più appunto dai mistici filosofi ai designer qua nel lavorare meglio disegnando male insomma ho tolto tutta la parte quella più più metafica e ho messo una parte più fisica per esempio c'è Einstein nella costruzione del linguaggio visivo fa dire il capitolo diciamo a Kate Herring perché era anche un artista che ragionava sui linguaggi visivi e poi ho trovato che proprio era molto interessato a quelli che chiamavano linguaggi visivi individuali cioè che secondo lui c'erano le persone avevano a cercare di rappresentare le cose con delle forme e in effetti è vero è quello che sto anche anche nei miei corsi cioè il ci sono delle delle basi legate alla nostra percezione come elaboriamo le cose ma il sono i primi studi diciamo più risultati della teoria della gestalt insomma che poi è stata superata in alcune cose però il discorso in forme sul sul cervello che funziona adesso non si dice più a forme ma a schemi cerca di trovare degli schemi nelle cose e quindi più riuscite per dire all'osso delle cose più riuscite a ricordarvele e a comprenderle il disegno continua a dire ricordarle e comprendere perché poi sono le due cose sono due delle azioni base che il disegno fa sulla nostra mente ricordare meglio perché assi il disegno trasformando ad esempio un concetto attraverso il disegno tu fai un'azione trasformativa se tu lo trasformassi in poesia e questa azione trasformativa te lo fa imprimere meglio nella memoria e al tempo stesso però trasformandolo lo capisci perché lo devi smontare in qualche modo lo smonti in modo tuo e questa capacità trasformativa che ha il disegno è una cosa che non facciamo quasi mai cioè appunto come dicevo lo si può fare ad esempio scrivendo ma scrivendo poetico quindi usando scrivere in modo poetico significa proprio lasciarsi andare anche a sociali e tutto cioè non è la retorica che poi nel disegno si esprime il bel disegno come il bel canto cioè cercare delle cose che funzionino e ad esempio il diciamo se uno esce dal giudeo capire se le cose funzionano oppure no è facilissimo perché siccome funzionano tutte energie cioè hanno una specie di potenza di linguaggio loro che ti fanno capire che cioè non hai bisogno da nessuno non lo capisci da te e dici ma questo cavolo funziona poi magari funziona per 20 persone non per tutti però funziona e in questa parte del libro faccio ragionare sulle forme geometriche elementari fino ad arrivare sui simboli il disegno di simboli, di segni grafici perché in realtà è un mondo in cui tutti i sensi e che possiamo anche semplicemente catalogare guardando o scendendo in strada lavorare sulla scrittura usarla in modo diverso diciamo e è una parte che è molto interessante anche che mi ha spinto ad allargarla un pochino perché facendo bene perché in realtà ogni volta che a lanciare un incontro o un corso su questo tema crea sempre un sacco di interesse è quello del prendere appunti e tra l'altro io ci ho messo prendere appunti in riunione quindi c'è un piccolo una parte mi sembra sei pagine sei ottonio su come prendere appunti in riunione e poi c'è tutto un ragionamento sulle strutture di pensiero come presentare questo schema di appunti e considera che dicono ci sono alcuni studi che dicono che il 70% del tempo ne lega soprattutto nel multinazionale così lo spassa in riunione già tantissimo che cosa ti ricordi delle riunite? ti ricordi niente? magari sei stato lì a infliarti nel naso non lo so a fare scara non ti ricordi niente una specie di nebbia continua e invece se tu prendessi punti in un certo modo quindi non appunti sequenziali non scrivendo come uno scriva un filografo prendi appunti raccogli delle cose che ti colpiscono e impari a ritrasformarle attraverso il disegno vuoi vedere che oltre a ricordarti cosa dicono importante nelle riunioni ed importante per te tra l'altro che è la cosa più necessaria magari ti ho delle idee perché si generano poi delle idee mentre tu trasformi e metti giù c'è anche una trasformazione vi ho portato tre esempi dei miei taccuini questo ad esempio è un prendere appunti mentre uno parlava al di là di quello che fa lavoro però questo invece è quello che faccio io nei miei taccuini e ho cercato di fare attenzione nel senso che questo ho fatto all'inizio del disegno brutto e poi pian piano ho iniziato a strutturarli meglio tra l'altro ho imparato alcune cose che mi venivano in mente o che scrivevo in questo caso ho disegnato in altri momenti poi li attacco e mi diventa il taccuini mi diventa una sorta di scrapbook e questo per dire è una riunione lunga in cui io poi torno e ci ritrovo un sacco di cose nella riunione di un'ora però sono riuscita a sintetizzarla solo in alcune cose chiave che poi io sviluppo e come vedete ci sono c'è una sorta di impaginazione che aiuta molto la lettura e poi ci sono l'utilizzo di alcuni segni grafici minimi tra l'altro però che io capisco subito ci sono dei segni di opposizione cioè io se c'è lì c'è una linea ondulata so cosa vuol dire perché è un linguaggio mio e questo d'altronde è il mio taccuino cioè è mica una cosa che io devo far vedere a tutti e quando non riesco a capire e essere riuscito a sviluppare una sorta di nuova individuale mi soddisfa molto mi gratifica molto per cui mi fa anche quando vado a dormire mi fa avere anche nuove idee sto gli ultimi tre minuti Antonella sul cinque minuti e poi mi apro le domande quando voi iniziate a prepararle la seconda parte importante del libro è disegnare un libro questo è proprio disegnare al lavoro cioè cosa si può fare al lavoro ci sono tante proposte nel libro propongo varie cose alcune tra l'altro non le ho potute mettere nei libri sono difficili da spiegare e sono tipo risolvere problemi disegnare i concetti disegnare l'agenda disegnare i clienti disegnare le metafore è una cosa che si fa molto cioè si usano scusate dove si usano le metafore tantissimo e poi però non le sappiamo visualizzare cioè non le sappiamo non ci ragioniamo per cui faccio fare ad esempio sul discorso della metafora faccio lavorare sulle emozioni perché il Dino lavora molto bene sulle emozioni cioè su tutta quella parte di noi come vi dicevo non razionale e quindi ho usato l'idea del bestiario medievale ad esempio per far rappresentare delle emozioni o sensazioni tipiche del lavoro attraverso un bestiario che l'idea è che poi questo bestiario se uno se lo mette in grande e tutto queste emozioni che ti guardano e c'è una una specie di funzione catartica che in realtà è quella anche classica di alcuni riti di iniziazione in cui tu passi attraverso delle gallerie degli spazi in cui ci sono tutti gli animali ad esempio che rappresentano le paure cose che ti guardano che sono simbolici quindi tu riesci a maneggiarli perché li vedi addirittura li hai creati tu quindi e l'altra parte che mi interessa farvi vedere è rappresentare i processi cioè una delle cose che anche così come se ne è mia non so mi piace oltre a rappresentare le emozioni cioè a capire come rappresentare le emozioni il discorso dei processi cioè guarda che si fa sempre da inizio un lavoro e lo finisco esco di casa e vado al lavoro è sempre un processo e la maggior parte dei processi sono percepiti postumi cioè sono riconsiderati postumi a fine ad esempio di un progetto soprattutto da chi è a capo di quel progetto come dei processi lineari e invece ho scoperto facendo i miei corsi aziendali che la maggior parte dei dipendenti cioè di chi ha partecipato scusate dipendenti di chi ha partecipato al progetto può rappresentare il progetto come una timeline veramente descrittiva di quello che è successo nel libro ci sono questi esempi e vi assicuro che funziona nel senso che veramente si riescono a rappresare i problemi le fasi le buone ciò che è successo e questo è un racconto immediato e tra l'altro la sezione individuale questa è la cosa importante cioè le analisi i dati gli schemi le timeline le flowchart non dicono come sono sentite le persone questo invece è per ad esempio una persona che gestisce un progetto sapere come sono sentite quali sono state le fasi dure di un progetto è molto molto importante vedo che state già iniziando a guardiamo un po' a fare delle domande allora prima le domande c'è poi questa è più veloce perché c'è tutto discorso con i colleghi che in realtà ci sono molte attività sarebbero scherzose da fare e poi sul libro non possiamo mettere tutti gli scherzi più cattivi da fare ai colleghi però funziona c'è comunque un'idea proprio di usare il disegno per capirsi meglio cioè per capire meglio e capire meglio tra colleghi quindi analizzare il lavoro di gruppo creare delle metafore che funzionano per tutti e farlo attraverso il disegno è importante perché secondo me è proprio un mezzo di comunicazione divertente una volta superato il giudizio una volta dichiarato tutti sulla stessa barca di non disegnatori ecco si possono veramente andare a vedere e analizzare cose che altrimenti sfuggono e che con il linguaggio pratico non si riescono a a rappresentare io mi adesso mi mi metto in in mano le vostre domande Laura De Benedetto guarda vedo il question and answer Antonella è un taccuino particolare un'agenda quello su cui ho lavorato io sì era un taccuino che mi ha regalato un'amica che fa taccuini però io lo uso in modo assolutamente strambo quindi lo puoi fare con qualsiasi sistema insomma non è importante anche perché a me piacerebbe averli con le pagine completamente bianche e guardiamo un po' ci sono altre domande che mi ha proprio tu Antonella se sono dimenticato qualcosa intanto che magari ah la differenza Ilaria chiede la differenza tra i due libri la via del disegno brutto e lavorare meglio disegnando male allora la differenza domanda qualche colore uno è giallo e uno è rosso no la differenza è che il primo come dicevo è una sorta di percorso filosofico per cui l'idea è che serva per una ricerca interiore per dirla in breve e l'altro invece è proprio per per portare i disegni al lavoro quindi è pensato per le persone che lavorano in azienda in organizzazioni che professionisti cioè che hanno bisogno del cioè che hanno bisogno che pensano che il disegnare possa aiutarli nello sviluppo delle idee nel nel pensiero nella comunicazione con gli altri se non addirittura nel training nella formazione nella gestione dei gruppi e vedo dai feedback che ho ricevuto il libro è uscito è stato un po' sfortunato perché è uscito a fine febbraio abbiamo fatto la prima e unica presentazione dal vivo a Milano e poi è arrivato il lockdown quindi però è stato è stato un vantaggio perché da un certo punto di vista perché poi sono arrivati magari abbiamo venduto meno copie di quanto avevamo potuto vendere con le presentazioni però alla fine il libro è comunque arrivato sulle scrivanie e le persone che erano in smart working alle volte mettevano proprio sul link una foto e dicevano io questa settimana l'affronterò con c'era il nostro libro con altri e quindi hanno avuto modo di starlo i feedback sono stati buoni e interessanti perché poi non ha preso la sua via la persona che hanno creato il CV disegnato a persone insomma che hanno rivisto i valori e i simboli di un'azienda insomma sono tante tante cose quindi diciamo la differenza è un po' questa e se vuoi le vedo Antonella le domande quindi Elena mi chiede lavori con gli insegnanti cioè sì nel senso anche qua diciamo che come il progetto sia un pochino arenato a causa Covid nel senso che una delle nostre idee quindi anche editoriali insomma progettuali è di andare pian piano anche verso il mondo della scuola e andarci verso andare con gli insegnanti perché libri per bambini fatti bene educatori per bambini che fanno cose meravigliose ce ne sono già tantissime alcuni vivi altri sono morti però sarebbe il caso di seguirli in Italia abbiamo dei patrimoni che sono da Munari alla Montessori a tante altre esperienze insomma di lavoratori creativi e di uso anche del disegno in modo particolare e basterebbe recuperare quelli la letteratura ce l'abbiamo in italiano fate conto che Munari in inglese credo abbiamo tradotto un libro solo ecco noi li abbiamo tutti quindi non c'è bisogno di quindi sì con gli insegnanti sì l'obiettivo è di lavorarsi io faccio ogni tanto dei progetti dei webinar per ora divulgativi però l'idea è di andare proprio a ragionare su un diverso tipo di didattica ecco sia un diverso tipo di didattica sia dare degli strumenti per gli insegnanti per gestire anche il gruppo insomma un lavoro che pian piano verrà fuori Manuela senza alto supporto aiuto senza alto supporto un gruppo di lavoratori soci può utilizzare il libro e sperimentarsi con soddisfazione sì la soddisfazione non so è personale però sì 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 è fatta apposta in realtà è fatta apposta e poi ovviamente è fatta apposta anche perché uno dice dai ganso questo esercizio tutto aspetta ah fammi vedere poi dopo chiamiamo anche lui no sì si può fare è fatta apposta ci sono sono spiegati infatti alla fine la scelta è stata di lasciare un po' più di spazio ad un esercizio quindi dalle do un minimo di due a quattro in alcuni casi anche qualche pagine in più in modo da spiegare l'esercizio e poi in ogni caso ci sono sempre io nel senso che io sono siccome mi piace anche proprio dal punto di vista della documentazione avere dei feedback quindi anche i risultati gli esercizi per me se uno mi scrive mi dice guarda mi ha fatto che ne so l'esercizio del fiume in gruppo sono venute fuori queste cose io penso che sia per questo non ci dici e quello non ha problemi anzi lo faccio molto volentieri quindi sì 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 quindi Ilaria mi chiede il secondo è più adatto per l'ultimo un gruppo sì assolutamente mentre il primo per un lavoro più individuale su se stessi certo anche se poi sono strumenti per cui uno li può usare come vuole sulla base di questo anche i suoi corsi hanno orientamenti diversi sì lo capisci un po' dai nomi perché il corso di disegno brutto è il corso di disegno brutto poi ci sono creo tanti corsi ci sono legati al libro lavorare meglio disegnando male ci sono i corsi disegnare in ufficio sketch noting che in questo momento non si può fare diciamo perché ha bisogno di una parte pratica dal vivo per cui è un po' difficile farlo prendere appunti in riunione insomma comunque sono tutti in un cappello disegnare in ufficio si trovano tutti sul sito disegnabrutto.it puoi trovare tutti i corsi adesso ce ne sono anche un po' in giro un po' fuori insomma di questi corsi e eventualmente quello diciamo più iper specializzato diciamo per professionisti un pochino più si chiamano eventualmente working visually che è sempre il nome che io uso quando lavoro poi Aura che ti saluto ci sono aziende che hanno poi innescato un cambiamento in questo senso ecco si è caduto feedback allora le aziende sono sempre molto fan sempre molta fatica a rilasciare dei feedback io con le aziende sto lavorando da un paio di anni nemmeno beh diciamo che sono contenti che sono contento che alcune mi richiamano per fare per approfondire delle cose e poi te lo saprò dire spero il prossimo anno perché comunque ci sono anche delle grandi aziende che mi stanno chiedendo di fare dei percorsi ovviamente devi ritirare dei percorsi ad hoc però la parola cambiamento è quella che viene più fuori perché diciamo che oltre alle aziende sono interessati a questi metodi anche le società di consulenza è perché si rendono conto che la parola e tutti i lavori che fanno spesso non innescano il cambiamento invece il disegno è un grande innesco per il cambiamento perché fai quindi facendo qualcosa cioè se ci fosse una che tra di voi che vuol fare questa attività con l'uncinetto cioè ben venga secondo me è fighissimo riesci a portare questi concetti con l'uncinetto la funzione è sempre quella nel senso che fai qualcosa manualmente e quindi il cambiamento lo vedi proprio la trasformazione la vedi proprio quindi ancora non lo so però come ti dice i feedback sono buoni sono buoni appunto e mi chiedono degli approfondimenti in genere ecco tipo ma allora quando facciamo le slide ci possono oppure questa cosa per i ricercatori adesso sto sviluppando con una fondazione ad esempio tutto un lavoro per la ricerca scientifica e quindi per i gruppi di ricercatori perché hanno dei bisogni cioè hanno delle particolarità loro a punto di vista dei processi di lavoro che con il disegno ovviamente si possono affrontare appoggiandosi magari sopportando e incrociandosi con degli strumenti di lavoro come il design thinking così poi il disegno può aiutare a far andare meglio anche tutto il processo Elena sono una designer che non so fare schizzi rappresentativi veloci ma i miei schizzi non sono belli da vedere ho figurato i miei e ho fatto un corso di disegno a matita io non ho mai fatto corsi di disegno a matita mi sono trontano da queste frustrazioni disegnare mi piace molto ma trovo grande difficoltà a disegnare in modo veloce cosa posso fare grazie al disegno in modo lento intanto vai piano andando veloce siamo per fare la cosa giusta quindi sei vai piano cioè non ti stare ma intanto quello che dico anche agli insegnanti per i bambini è tutto di arricchire la cultura visiva quindi guardare guardare andarsi a cercare cose e poi in genere proprio ripartire da fare come ho fatto anch'io cioè io figurati ho sempre lavorato cioè ho sempre disegnato per lavoro e a un certo punto non riuscivo a fare cose senza senso con il disegno quindi mi sono ricreato degli spazi per disegnare ogni giorno senza senso e pian piano ho ritrovato un altro modo di disegnare e adesso come dico spesso c'è il disegno che disegna a me cioè non sono più padrone di quello che disegno infatti alla fine non riesco quasi a usare il disegno per lavoro perché il mal disegno va per quanto suo quindi non non riesco a renderlo efficace quindi scommetto ricreati degli spazi riparti devi ritornare a zero e poi ripartire vedrai che ci puoi riuscire e eventualmente invece di andare a frequentare i corsi di disegno a matita magari dal vero e tutto vieni a un corso di disegno brutto prova Alessandro dimmi possiamo suggerire a Elena di ispirarsi alla prima legge del disegno brutto sì esatto esatto perché ci sono dieci leggi e la prima dice come viene viene quindi tutto quello che viene va bene e la terza dice non c'è giudizio non c'è errore anzi l'errore è una grandissima opportunità quindi come usare il disegno per errare Giuliana ha scritto ora reggo la domanda ma ha scritto che lei si diletta di uncinetto come applicare un ufficio trova tu il modo io l'uncinetto non so applicare un ufficio però nel libro del disegno brutto c'è a un certo punto una citazione sull'uncinetto sulle nonne quindi ci trovi un indizio allora ringrazio perché ci stanno degli stimoli utilissimi anche per coinvolgere emozionalmente i colleghi aiutandoli a evidenziare come stanno vivendo determinati steps di percorso verso un obiettivo stranando anche eventuali disagi raccogliendo suggestioni utili per tutti cioè la psicologia usa il disegno anche se non lo sa maneggiare bene perché non è così scientifico dà dei risultati che sono un po' empirici ma per dire le macchie di Roshark ora spero di averlo pronunciato bene che tutte le volte mi incarto sono sono state un mezzo interessantissimo gli americani poi ci sono buttati tantissimo e succede questa cosa che c'è un aneddoto di un di un recruiter insomma di un di un colloquio di lavoro in cui il profilo di questa persona questa persona che si presenta sembra perfetta per fare il manager perché cioè risponde benissimo a tutti i test il linguaggio wow il personaggio giusto può fare il test delle macchie di Roshark è un personaggio disturbatissimo proprio tira fuori delle cose che il recruiter si spaventa e quando fanno analizzare il psicologo dicono questo è meglio di no eppure era una persona quadratissima cioè che così l'abito non fa il monaco evidentemente sembrava perfetta quindi si tira fuori delle cose proprio tutto l'indicibile c'è stato in uno di questi incontri per gli insegnanti racconta anche questo aneddoto perché fa capire c'è una insegnante che vabbè carina partecipava all'incontro quindi sicuramente cercava già delle nuove vie però mi fa una domanda che spiega proprio come è considerato il disegno c'è un bambino che non mi sa spiegare i disegni ma come posso fare e lo fa e gli ho detto eh beh certo ti ha fatto un disegno se te lo voleva a spiegare te lo dicevano te lo scriveva se ti ha fatto un disegno vuol dire che probabilmente non è capace di spiegarlo prova ad andare a un vernissage ad un artista e dirgli spiegami bene quello che hai fatto cioè insomma la regola ti dovrebbe mandare a quel paese perché non si spiega anche perché spesso non lo sa il bambino cosa sta facendo e il disegno ad esempio viene usato per i bambini vittime di abusi o comunque di traumi anche per fargli dire l'indicibile perché possono in questo modo spostano c'è una proiezione se ci pensate c'è anche una cosa su cui ragionavo che è abbastanza incredibile cioè la mano è fuori da noi cioè la mano tu te la vedi la bocca quando parli quindi la bocca fa parte di un una sorta di percezione di sé che è interiore cioè che e la mano invece è una cosa che tu vedi quindi è come se avesse vita propria quindi quando tu disegni stai spostando proprio il soggetto cioè il soggetto può diventare raccontato quindi il bambino è molto più libero e poi una volta che l'ha messo su carta ha tirato fuori la cosa quindi risposto un po' in modo arricchito Elena insegna l'osperiore fisica mi stai dicendo cose fantastiche sì fisica tra l'altro è un mondo che non c'è mai capito niente ma adesso è incredibile le rappresentazioni dei fisici oddio dei fisici poi lavorano tanto con l'immaginazione però è uno dei dei mondi in cui anche il disegno così l'astrofisica viene utilizzato tantissimo i diagrammi tutte queste cose sono disegno alla fine c'è un diagramma se uno se lo fa a mano lo capisce se lo vedi sempre sul sui libri così non lo capisci anche tutta la fisica atomica così ad esempio ora faccio un piccolo spoiler però ad esempio venerdì faccio questo piccolo corso di disegno brutto che sono dei piccoli corsi in cui approfondisco alcuni temi sono delle cosine di due ore e vado sul microcosmo e ho preparato tutta un due ore in cui si va dalla cellula fino a dentro alle rappresentazioni dell'atomo perché è divertente io non ci capisco niente lo dico però sono sicuro che facendolo e facendolo fare ci si capisce qualcosa di più di quelle cose anche tutte le rappresentazioni di un mondo che è invisibile però esiste quindi io sono assistente Daniela educatrice scolastica e utilizzo tantissimo il disegno e gli scarabocchi per spiegare i significati del linguaggio affigurato ai bambini con autismo bellissimo grazie mille anzi poi scrivimi perché sono interessato perché ci sono ogni tanto delle persone che chiedono aiuti di questo tipo io ovviamente non mi so dare dico bisogna fare delle cose strutturate insomma perché non si va mai sproveduti in certi ambiti però mi interessa quindi se vuoi scrivimi insomma perché è bella questa cosa Giuliana è quella dell'uncinetto ok Chiara dalla fine dello scorso anno scolastico sto cercando di aiutare la comprensione della filosofia grazie al disegno e all'arte ho preso spunto dal suo libro per proporre ad esempio una mappa visuale ai ragazzi ha dei consigli a darmi questo caso che altri lavori può suggerire c'è un libro che non so se si trova perché si chiama Atlante illustrato della filosofia mi sembra se non sbaglio è di un filosofo italiano scusate un divulgatore di un filosofo italiano che fa libri in genere per la scuola così ed è fantastico perché io lo sto usando tantissimo questa è una rivelazione l'ho scoperto da poco purtroppo quindi già quando ho fatto i libri però lo sto usando tantissimo perché ci sono tutte le visualizzazioni del pensiero filosofico di un sacco di teorie filosofiche ed è bello perché proprio dall'idea di tutti gli schemi che ci sono dietro a ogni pensiero quindi quello è il consiglio perché in realtà molti filosofi soprattutto c'era Spinoza ad esempio che era un grande disegnatore e poi bisogna considerare che i filosofi spesso facciano anche altre cose quindi sono interessati insomma anche per quello e c'è tutto dal medioevo in giù insomma i filosofi che disegnano che comunque ragionano visivamente ce ne sono tantissimi quindi bisogna andare un po' a cercare perché in genere tutta la filosofia viene passata con la parola appunto c'è quell'esempio di Giordano Bruno che è proprio esemplare insomma perché al tempo stesso c'è nello stesso periodo c'è Galileo Galilei che disegna lune in modo assolutamente sbagliato tra l'altro perché le lune di Galileo sono bellissime le stelline che Galileo mette nel Stereus Nuncius sono scritto anche bene per carità però sono una delle cose più poetiche che si possono trovare in un libro che fa divulgazione scientifica le stelle che ci sono andatele a cercare perché si trova in open source il Sereus Nuncius di Galileo però sono riflessioni filosofiche lui attraverso il disegno riesce a far capire meglio quello che voleva dire se non tutte le cosmologie insomma da Copernico insomma quindi la filosofia ha un sacco c'è anche Wittgenstein che fa dei ragionamenti sul sul disegno sulla rappresentazione tra l'altro mette dei disegnini nel 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 suo libro adesso non ricordo quale tra l'altro quando li ho trovati ho subito fatto la foto perché ho detto dai addirittura ma che parla di linguaggio e poi ci sono due emoticon un film di Nicchetti oh brava Elena che sì sì è il è Rattataplan mi sembra quello che viene me lo boccano perché disegna un bellissimo albero sì perché li fanno fare il test dell'albero e lui è vero è l'inizio di Rattataplan se non sbaglio e vedi che mi ha influenzato perché mia cuginona grande mi portò nelle poche volte che mi ha portato la ringrazio ancora che era una decina di anni più di me e una volta disse che aveva 20 anni uscire a Rattataplan e disse ai miei basta porto Alessandro a vedere questo film io mi ricordo che mi sono divertito tantissimo adesso dovrei rivedere ma in realtà in famiglia mia con tutti che è noiosissimo Nicchetti ciao molto bello quindi l'idea questo è Claudio di una specie di flusso di coscienza sì proprio lasciare il segnale automatico sì 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 c'è proprio le tecniche del disegno automatico che vuol dire quello cioè che vai in un flusso entri in una sorta di flusso di coscienza e ti abbandoni e lasci lasci che sia la mano a disegnare cioè l'idea è che tu ogni volta che il tuo cervello la tua mente la parte razionale diciamo del cervello comunque cosciente riconosce qualcosa nel disegno e tu devi cambiare strada in modo che alla fine quello che hai è una sorta di disegno astratto alle volte anche solo sprecare un disegno cioè un foglio e riempirlo così al nero e a forza di farlo poi troverai troverai interessanti potenti e troverai anche nuove figurazioni quello che è successo a me io l'ho fatto anche quando mia figlia aveva quattro anni che mi costringeva a fare a disegnare come voleva lei e quindi dovevo seguire esattamente i tratti che le faceva cioè le facevo un tratto e poi se la vai col verde e quindi dovevo seguire tutto il suo disegno e poi a un certo punto finiva e faceva ma come finito ci metto degli occhi diventa un bellissimo ed è stato uno degli esercizi più potenti che abbia mai potuto fare c'è stata la mia maestra incredibile perché quegli esercizi lì mi hanno cambiato completamente il modo di vedere il disegno tanto che adesso che lei ha quasi dieci anni non non capiamo ci sono influenzati talmente da vicenda che io non so più se ci sono dei disegni intanto li trovo non so se li ha fatti lei le ho fatti io lei mi copia tantissimo io copio lei quindi è stata interessante perché proprio la visione del bambino ti cambia ti cambia completamente e quello potrebbe essere un modo Alessandro scusami potresti ripetere il titolo del libro di filosofia che hai consigliato potrebbe essere Atlante Illustrato di filosofia di Nicola Ubaldo è lui l'autore bravo brava ok adesso allora mandiamo il link in chat sì esatto Nicola Ubaldo è il filosofo che l'ha fatto è un libro che è uscito non mi ricordo una decina di anni fa una quindicina l'ho trovato in digitale non so se si trova facilmente perché era un editore non così così famoso però il libro è interessante lì per lì sembra un libro tipo conoscere cioè un libro da bambini poi invece è fatto è fatto benissimo anche perché poi ho scoperto appunto che lui è uno che fa libri di filosofia insomma testi per la scuola testi di ricerca filosofica quindi è proprio una sua volontà di creare una cosa visiva che tra l'altro nel mondo anglosassone si fa di più Silvia lo consiglio anche per ragazzi che studiano sì assolutamente sì il libro cioè per ragazzi che studiano soprattutto se sono dello superi e avere il disegno brutto secondo me più interessante perché apre proprio dei mondi cioè la mia idea è sempre di aprire degli squarci e quindi si è avuta anche le mie corse delle volte spesso con i genitori perché magari si divertivano di più da soli difficilmente gli adolescenti vengono in un corso dove ci sono delle signore cinquantenni quarantenni quindi e sono divertiti anche perché ci ritrovano magari delle cose delle intuizioni delle cose che stanno studiando a scuola appunto a filosofia o a letteratura perché poi gli incroci sono tantissimi e mi piace incrociare molto Beatrice sono educatrice e lavoro con bimbi piccoli a volte si resti ad utilizzare i pennelli come più piccoli perché gli stanno in accessione negativa forse dicevi i pennarelli sono visti con uno strumento un po' limitante per l'espressione del gesto eh esatto sì invece grazie a livello di genovolto ho preso le mani i pennarelli fare scorrere sul fuori scrabocchiaccio molto piacevole sì esatto diciamo che sono due cose diverse perché anche il bambino li percepisce come cose diverse cioè la pittura è una cosa che ti permette di fare i colori molto più velocemente e di eventualmente di rappresentare la realtà il disegno chiaramente chiunque pensa che non può rappresentare la realtà perché è troppo complesso rappresentare la realtà attraverso il disegno sono tutti dei puntini come fai e quindi il bambino lavora cioè se lavora con i pennarelli usa il disegno per altre cose in alcuni casi sono dei pregrafismi però sì sì diciamo che la cosa limitante è quando si usa solo uno strumento che in genere sono i pennarelli oppure poi all'elementare non si capisce perché ad esempio le matite vengono usate le matite colorate senza considerare che le matite colorate per colorare quindi perché il colore si veda e il bambino è lì che poi vuole vedere il colore se non ha fatto questo lavoro per niente ha bisogno ad esempio di non essere fatte sui fogli a quadretti avrebbe bisogno di una carta un po' più grossa altrimenti il pennarello è più utile perché il bambino almeno vede uscire fuori il colore quindi il vantaggio del pennarello è a volte anche quello perché è deciso il bambino si sta colorando con una matita gialla che il corpo della matita è molto giallo è chiaro che poi lo vuole quel giallo e poi quando va con la matita non lo trova allora va col pennarello quindi sì sì proporre è una cosa buona grazie a te Beatrice ok ci sono ci sono altre domande perché vedo che pian piano giustamente le persone stanno anche andando a fare altre cose vedo che ci sono dei nuovi bellissimi possiamo noi ti ringraziamo se non c'è un'altra domanda esatto moltissimo Alessandro per questo bellissimo appuntamento io intanto vi ricordo che ci sono altri due appuntamenti estremamente interessanti questa sera tra pochissimo alle sette e mezza una webinar una diretta streaming sul rapporto tra grande distribuzione e impatto ambientale con Enzo Di Rosa Fabio Brescacin e Stefano Liberti che molti di voi conosceranno e alle 21 un'altra un'altra diretta sul buon uso dei social umani sui social si possono le dirette si possono vedere sul canale youtube di fa la cosa giusta è sul sito falacosagiusta.org continuate a seguirci fino al 29 ci saranno tantissimi appuntamenti e dal nostro sito potete vedere anche le dirette passate io vi ricordo che Alessandro ha un sito disegno l'ha già citato disegnobrutto.it sul quale potete trovare tutte le informazioni rispetto ai prossimi appuntamenti che lo coinvolgeranno ringraziandovi nuovamente vi saluto e vi auguro buona serata grazie grazie a voi grazie canella ciao a tutti arrivederci ciao ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti